Nella sala consigliare del municipio di Pordenone, il sindaco Alessandro Ciriani e l'assessore alla cultura Alberto Parigi hanno consegnato un attestato di stima e gratitudine alla docente universitaria professoressa Antonella Riem Natale. Distintasi in oltre 37 anni di studio, ricerca e didattica per i suoi rapporti internazionali e per aver portato lustro all'Università degli Studi di Udine, a Teneo nel quale insegna letteratura inglese ed è stata direttrice del Dipartimento di Lingue e Letterature, e a Pordenone, sua città natale, a cui affezionata è legata e rappresentante del genio e dell'eccellenza della nostra città. Il Comune di Pordenone con piacere dà dei riconoscimenti che si distintano nel campo dell'arte, della cultura, del lavoro, del sociale e dello sport. In questo caso lo dà ad una persona che si è distinta per la sua attività accademica, per la sua attività divulgativa, di insegnante universitaria, proiettando il nome di Pordenone fuori dal proprio perimetro addirittura a un livello internazionale, ricevendo il più alto riconoscimento del governo australiano a chi australiano non è. Per noi è motivo di orgoglio perché? Perché Pordenone è una città piccola ma con tante doti, una grande creatività culturale, una grande storia imprenditoriale, ma anche una fervida attività culturale animata e tenuta insieme da persone come la professoressa Rie. È giusto che l'istituzione comunale riconosca i suoi cittadini eccellenti, i suoi più grandi talenti, che portano i nomi di Pordenone all'estero e danno prestigio alla città. Allo stesso tempo è anche giusto che sia la città che si rende conto della sua qualità, dei suoi talenti, della sua capacità di esprimere così tante eccellenze. È una piccola comunità la nostra ma che appunto per capacità di esprimere persone che eccellono nel loro campo è degna di una grande città appunto. Il riconoscimento australiano è per me un grandissimo onore perché porta a compimento 30 anni di attività, di studio, di ricerca, di lavoro sull'internazionalizzazione. È un grande onore soprattutto perché questa onoreficenza data a una persona non nata in Australia, non di cittadinanza australiana, viene data col contagocce e quindi sono molto onorata. L'onoreficenza qui, la menzione che mi ha fatto il sindaco, la giunta comunale, l'assessore della cultura mi onorano ulteriormente perché io sono nata a Pordenone. Prima parlavo di quanto hanno fatto dagli anni 50 in poi quando sono venuti qui da Roma i miei genitori come insegnanti, come persone che hanno portato un grande spessore culturale a Pordenone e quindi mi sento di dover portare avanti la loro eredità con molto affetto e con molta riconoscenza per tutto quello che hanno fatto.